Schianto mortale nella primo pomeriggio alle porte di Arezzo, un drammatico incidente costato la vita a una donna di 56 anni. È successo attorno alle 14.30 a Ripa di Olmo, lungo la statale 73 Senese Aretina. Un'auto ed un furgone si sono scontrati frontalmente. La 56enne, che viaggiava a bordo della Ypsilon Bianca, è morta sul colpo. Nel violento schianto sono rimaste ferite poi anche altre due persone. Un uomo di 42 anni ed una cinquantenne. Nello scontro tra due mezzi è rimasto coinvolto solo marginalmente anche una terza auto, a bordo una donna di 52 anni. Purtroppo ci sono altri due feriti gravi. Una è stata portata alle scotte di Siene e l'altra a Careggi. Entrambi sono stati trasportati con il soccorso, quindi una situazione abbastanza grave per questi due ulteriori feriti. C'è una terza ferita, in modo più leggero, è stata portata al San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, gli elicotteri Pegaso 1 e 2, i vigili del fuoco, il personale Anas e la polizia municipale di Arezzo per i rilievi di legge e per consentire le operazioni di messa in sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. La dinamica ancora è in fase di accertamento. I veicoli chiaramente sono stati posti sotto sequestro, come vedete stiamo procedendo a rilievi planimetrici e fotografici. Al momento si può solo dire che le due autovetture stavano procedendo in direzione rotatoria Ripa di Olmo-Sanzeno, mentre invece il furgone proveniva in senso opposto di marcia.